Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appunto. L'appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali. Alle mie spalle vedete il centro, nella edizione di Pescara, allora il titolo di apertura lo andiamo a leggere insieme. Liti in famiglia in aumento e allarme. I carabinieri, troppi interventi quest'anno a Pescara e a Montesilvano. Andiamo nel taglio alto. Sanità, la regione contro il ministero, visite specialistiche. In Abruzzo restano in vigore i super ticket. E poi addio Gran Sasso, trasferito in America l'esperimento sui neutrini. Ancora le regionarie e i probiviri. Il Movimento 5 Stelle, la sfida doppia sul web fra Marcozzi e Sabatini. Adesso invece andiamo nello spazio delle cronache. A Pescara i vigili del fuoco, Movida, le regole vanno rispettate. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Vincenzo Palano, lancia un appello agli imprenditori del divertimento chiedendo di attenersi alle regole e spiegherischi per i clienti dei locali. Ancora da Pescara le periferie, le associazioni immobilitate contro i tagli. E poi a Montesilvano, corso e degrado. I negozianti ci adotti il comune di Pescara. E poi a centropagina, turista sparito, ricerche nel dirupo a Caramanico, nessuna traccia del 76enne scomparso lunedì, Valle dell'Orfento, passata al setaccio. Nella fotografia, cittadini generosi, il banco alimentare, sono stati raccolti 17 mila euro per i poveri. E qui vedete la foto della consegna dell'assegno per gli indigenti. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, coi cimeli di Robin messi all'asta il 4 ottobre da Sotheby's New York. Andranno all'asta le collezioni di arte e i cimeli di Robin Williams, l'attore americano morto suicida 4 anni fa. Restiamo sul quotidiano Il Centro, cambiamo edizione, Andiamo a vedere quella teatina, il titolo di apertura, controlli mirati su scuole e movida. Chieti, il bilancio dei primi 30 giorni del nuovo questore, salgono gli arresti. Andiamo a vedere nelle cronache a Lanciano, corso voragine arginata dalla cattedrale della Madonna del Ponte, che secondo ingegnere e geologi ha contribuito a tenere in piedi Corso Trento e Trieste dopo il crollo dello scorso 16 di agosto in una porzione di terreno sotto i negozi adiacenti la cattedrale. A Vasto, la pista ciclabile diventa di scarica abusiva. E poi ancora a Guardia Grele, il papà di Noemi scrive a Fedez, aiutate mia figlia. Andiamo a vedere anche il centropagina con la fotografia. A Chieti Scalo, nuovo parroco e i dodici apostoli, Don Emiliano pronto ad ascoltare e guidare i fedeli. E poi per quanto riguarda il calcio, va stese esordio duro con il Matelica. In serie di calendari, il presidente Bolami, campionato livellato e in salita. Andiamo adesso a vedere l'edizione terramana del centro. Anche qui il titolo di apertura, diventare veterinari, sogno per 400. A Teramo, 52 posti disponibili. Gli studenti, test di ammissione difficile. Poi andiamo a vedere ancora a centropagina all'ospedale di Teramo, tumore Almazzini, nuove cure con il calore. Qui vedete la foto con il primario di oncologia Amedeo Pancotti e il macchinario che applica l'ipertermia. Nelle cronache, isola del Gran Sasso, la scuola non c'è, il comune chiede l'aiuto dei frati. La scuola media finanziata dalla protezione civile e l'elementare finanziata dal CRI non sono ancora pronte. Gli alunni delle medie saranno ospitati dall'eco di San Gabriele. E poi a Pineto, in veste ciclista che va contromano, autista prosciolto. A Silvi, scuola calcio, società sportive in guerra. E poi ancora la serie D, di nuovo parte la sfida delle Teramane. Ecco i calendari, Giulianova, Pineto e San Nicolò Notaresco si giocano un posto in serie C. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del Quotidiano Il Centro. Titolo di apertura di cronaca, 16 anni violentata in un vicolo marsica, minaccia in cambio del silenzio, due indagati caccia al terzo. Nello spazio delle cronache, l'Aquila, gli alunni, Caos Cotugno, scenderemo in piazza. Gli studenti del Cotugno sono pronti a scendere in piazza, dopo che a loro avviso non è stata trovata una soluzione accettabile per la dislocazione delle aule in più siti. All'Aquila, sul Gran Sasso, rocce imbrattate dai vandali. E poi ancora sul Mona, Ovidio, lite 5 stelle, PD sui fondi per il bimillenario. Andiamo a vedere adesso il centropagina con i calendari di serie D. Avezzano vuole la C, subito la sfida alla corazzata Cesena. E poi l'Aquila Calcio riparte dalla prima categoria, provvedimento definitivo del commissario della FIGC Fabricini, rosso-blu nel girone A. Cambiamo testata, adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura i bus con i fondi per le frane Regione Forza Italia accusa non ci sono più i soldi per i lavori contro il dissesto. Il direttore generale Rivera risponde, finanziamenti addirittura aumentati grazie ai FESR. E poi Lanciano Pupillo lancia l'emergenza Voragini con il grave dissesto idrogeologico che sta colpendo il centro storico. Andiamo a vedere adesso a centropagina la cronaca stupro, il branco degli stranieri contro una sedicenne, due marocchini identificati, un terzo in fuga. Avezzano sotto shock per la terribile violenza. E poi ancora a centropagina il fenomeno, i carabinieri, almeno una denuncia al giorno, Pescara, una città dove tutti litigano, litigano, lo dicono, gli ultimi dati diffusi proprio dai carabinieri relativi agli ultimi otto mesi dell'anno. Le denunce presentate nel capoluogo sono oltre una al giorno. Di spalla Walter Tosto nel business della plastica biodegradabile, produzione destinata al settore cosmetico. Presto ci saranno nuovi impianti. Nel taglio basso a Caramanico, turista scomparso, le ricerche proseguono ma per il momento non hanno dato esito positivo. Scomparso Carlo Rodrigo Fattibene, 77 anni, turista, residente a Brugherio, in provincia di Monza Brianza, di cui non si hanno più notizie da lunedì pomeriggio. Andiamo adesso nel taglio alto per le altre notizie sul messaggero. Colonia, spunto un palo in mezzo alla strada, due corsie, poi cinema. Cristian Saraullo vince il premio sezione Migrarti al Festival di Venezia. E ancora il calcio, Pescara, Roccia, Campagnaro, di subito Avezzano, Cesena con il veterano schierato in difesa per quanto riguarda il Delfino. Il Pescara ora macina punti a raffica, varato intanto il calendario di Serie D con sei abruzzesi partecipanti. Ci sono tanti turni infrasettimanali. Lasciamo il messaggero, adesso andiamo a vedere la prima pagina della città che chiude la carrellata sui quotidiani regionali. Il titolo di apertura regione, la partita si gioca a Roma. Voto su internet per il Movimento 5 Stelle, Legnini in attesa di ufficialità, Salvini e Berlusconi si incontrano sabato per decidere cosa fare nel centro-destra. Andiamo a vedere nel taglio alto, Isola del Gran Sasso, tutti a scuola nella sede dell'Eco di San Gabriele. Poi a Giulianova la differenziata cresce, Malatari non cala. E poi provincia, civici terramani determinanti alle elezioni. Andiamo adesso a centro pagina, la fotografia a Venezia, una vetrina per il top della cucina del Gran Sasso. Rostelle in laguna e il titolo poi di spalla, Fiumicino dopo 23 anni chiude l'Ipersimpli, primo centro commerciale terramano. E ancora andiamo a vedere le altre notizie. In Val Vibrata, Corriere della Coca beccato in autostrada. Ancora a Roseto degli Abruzzi con la politica. Il PD chiede un cambio di passo al sindaco di Girolamo. E poi a Tortoreto caccia al postino fantasma del lungomare. Nel taglio basso invece il basket presentata alla campagna abbonamenti del Teramo Basket 1960. Questo per quanto riguarda la città. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Vaccini, ritorna l'obbligo. L'apertura, maggioranza, retromarcia del governo. Emendamento 5 Stelle. Corretto il decreto anticorruzione. Vertice sulla manovra. Conte, avvieremo le riforme e non sfideremo l'Unione Europea. Il mestiere perduto, opposizione senza avere proposte. L'editoriale è firmato da Sabino Cassese. Andiamo a vedere poi le altre notizie. I profughi e la polemica scatenata anche da un post di Salvini. I reperibili in 50 scesi dalla Diciotti. L'ite sulle regole. Andiamo a vedere anche il reportage di Centropagina. svolta nella città, stanchi di combattere. Apriamo a Haftar tra i soldati di Misurata. Serrai una delusione. Poi ancora l'intervista dopo la tragedia del ponte Benetton. Genova sarà per noi in monito indelebile. Andiamo su Repubblica adesso. Il titolo di apertura. 100 giorni di soli annunci dietro fronte anche sui vaccini. primo bilancio del governo, quasi nessuna promessa rispettata. Pensioni, caos su quota 100. Il commento di Michele Ainis, il dinamismo immobile. Poi ancora andiamo a vedere nel taglio alto, da Misurata ai fantasmi di Tripoli, nella Libia che brucia, il reportage che troviamo anche su Repubblica. Nel taglio basso, autostrade, il piano della maggioranza decreto con potere all'autority per far decadere le concessioni. Per quanto riguarda l'inchiesta, quegli sms prima del crollo. Il vero problema sono gli stralli. Andiamo sulla stampa adesso. Anche qui, titolo di apertura. Il governo gela i Novax bambini a scuola solo con il certificato. Mattarella, il Presidente della Repubblica, dice sbagliato di fidare della scienza. Attenzioni, nella maggioranza ispezioni dei NAS. Nonostante le promesse, il Ministero studia una soluzione. Poi, come uscire dall'equivoco? La politica nel Medioevo dei social. L'articolo firmato da Francesco Bei. Andiamo a vedere poi, per quanto riguarda sempre l'economia scende lo spread. Ecco le linee guida della manovra rispetto per l'Unione Europea. Questo sembra essere il cambio di passo del governo rispetto agli annunci di quest'estate. Andiamo sul sole 24 ore. In apertura ritroviamo l'economia e la manovra. Verso 25-30 miliardi. Nodo risorse spread ancora in calo. Vertice a Palazzo Chigi. Il Premier Conte. Le riforme per la competitività. Parte integrante del bilancio. Ma non c'è ancora l'intesa sui numeri e le misure. Oggi ci sarà un nuovo summit. Intanto il differenziale BTP Bund, lo spread, cioè è in calo a 255 punti base dopo le rassicurazioni dirette ai mercati. Plaude Confindustria. Bene Salvini, vicini al governo, se punta alla crescita. Sono le parole del Presidente Boccia. Andiamo a vedere poi le parole della D di Ferrovie. Gianfranco Battisti. FS in Anitalia. Se ci sono sinergie e piano solido. Priorità per i pendolari. A centropagina troviamo anche la fotonotizia. Caccia all'accordo. Ilva trattativa a oltranza per l'intesa. Andiamo sul fatto quotidiano. Cambiamo tenore nell'apertura. Il CSM rischia di cadere in mano all'uomo di Berlusconi oppure a quello di Renzi. Il Ri-Renzusconi. 5 Stelle e Lega in ordine sparso. Vicepresidenza verso Forza Italia e PD. di queste indiscrezioni sul fatto quotidiano per quanto riguarda il CSM e la vicepresidenza attuale dell'Abruzzese Legnini che è in scadenza. Andiamo poi avanti. Nel taglio alto, esclusivo il documento segreto che difende l'attrice Casio Asergento. Il detective scopre i guai di Jimmy, l'accusatore. Andiamo avanti con il manifesto. Il titolo sulla fotografia salta il tetto. A Roma la circolare Salvini sugli sgomberi rischia di far esplodere una bomba sociale. La sindaca raggi costretta la linea soft. A Milano la Lega cavalca il disagio abitativo. Matace sullo scandalo delle case popolari dell'azienda regionale Lombarda. Nel taglio alto, Salvini presenta la direttiva scuole sicure d'aspo e polizia a protesta degli studenti. Andiamo sul messaggero. Il titolo di apertura dietro front. Vaccini obbligatori. Amendamento di maggioranza. Cancella la svolta Novax a scuola solo che in regola. Controlli a tappeto dei NAS anche negli asili. Mattarella. Mai diffidare della scienza. E poi centropagina spariti dal centro di Rocca di Papa diretti in Germania e in Francia. La beffa dei 50 migranti in fuga. Imbarazzo di Viminale e Vescovi. E poi ancora l'ILVA intesa a un passo. Il rilancio di Arcelor Mittal. 10.000 assunzioni. Ultima trattativa nella notte sugli esuberi. Mossa dei sindacati. Servono altre garanzie. C'è anche l'editoriale di Oscar Giannino. I rischi per l'industria. Responsabilità. Unica strada da imboccare per chi governa. Chiaramente. E la riflessione sulle indiscrezioni per la manovra finanziaria. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. Con il titolo di apertura Belli Ciao. Sono scappati 50 profughi resistenti. Passati per Rocca di Papa. Sbarcati dalla nave Diciotti. Gli eroi delle magliette rosse non si trovano più. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Il vaccino a scuola è obbligatorio. Dietro fronte del governo sulla Profilassi. La cancellazione della Fornero si fa subito. Mentre il reddito di cittadinanza resta appeso. Le indiscrezioni secondo il tempo. Dopo il summit di maggioranza per quanto riguarda la manovra finanziaria. Andiamo su avvenire. Adesso il quotidiano cattolico apre così. Il governo si vaccina. Movimento 5 Stelle e Lega rivedono le politiche. Manovra economica. Rispetteremo i vincoli europei per crescere nella stabilità. Indietro tutta. Profilassi obbligatoria per la scuola. E anche la gara Il-Vavale sarà intesa con Arcelor. E poi ancora a centropagina reportage. Riaprono le attività produttive fra mille difficoltà. Aleppo e Oms. La Siria che cerca di rinascere. Poi chiaramente c'è il tema della nave Diciotti. Che coinvolge direttamente la Chiesa. In 50 si allontanano dai centri d'accoglienza. Profughi della Diciotti. La Caritas non sono detenuti. Calo degli arrivi ad agosto. E poi l'intervista. La Chiesa accoglie. Bassetti sbagliato. Ma sono liberi. C'è anche l'editoriale di Marina Corradi. Il Papa e il vero tempo del riposo. Non come in fuga. E il titolo dell'articolo. Proseguiamo su Libero. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Il pistola è Di Maio. I mercati temono che spari e reagiscono male. Sono bastate poche frasi accomodanti del ministro dell'interno per far scendere lo spread. Segno che il problema è Gigino e non Matteo. Il capo del Movimento 5 Stelle ora abbassa la cresta. Per gli investitori però il suo programma è spaventoso. Andiamo a centropagina. I paradossi della legge italiana. Dio non si tocca ma la Madonna si può bestemmiare. E poi ancora. Bimbo sfascia vetro della CGL e passa per Balilla. Pure una pallonata può essere uno sporco attacco fascista. Questa è la prima pagina di Libero. Andiamo sulla verità. La mappa delle 4.000 scuole a rischio in apertura del quotidiano di Belpietro. Esclusivo edificio per edificio dove vanno i nostri ragazzi. Avrebbero dovuto ottenere la certificazione di vulnerabilità sismica entro il 31 di agosto. Ma sono in alto mare. Si trovano tutte in zone dove il pericolo terremoto è elevato. Da oggi pubblichiamo gli elenchi. Andiamo a centropagina. Il filantropo Soros finanzia l'Iran che lapida le donne e vuole distruggere Israele. E poi il giudizio sulla manovra firmato proprio da Belpietro. Giudichiamo i 5 stelle dai fatti e non dai bla bla. Andiamo sul secolo d'Italia con la foto di Salvini. Via i pusher dalle scuole per quanto riguarda gli interventi denominati scuole sicure. Poi in primo piano prova il teaser su di me. Ecco come funziona. Poi i migranti della Diciotti in 40 via da Rocca di Papa. Ancora furbetto in tangenziale. 1.378 volte senza pagare. Il mattino di Napoli apre con i vaccini. Dietro front sui vaccini obbligatori a scuola sconfessati i Novax. Emendamento 5 stella annulla l'autocertificazione. Chi non è in regola non potrà iscriversi controlli a tappeto dei NAS. Scendiamo. Migranti. La fuga che imbarazza Vescovi e Viminali per quanto riguarda il caso delle persone sbarcate dalla nave Diciotti. Nella fotografia scoperta la tomba con il figlio illegittimo, il patrizio e la mataschiava. L'ultimo segreto di Pompei. Pompei che continua a regalare sorprese agli studiosi e non sole. Poi di spalla troviamo la trattativa per l'Ilva. La stretta sull'intesa. Mittal rilancia. 10.000 saranno gli assunti. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In apertura questa foto di Balotelli torna in balo. Super Mario da gennaio potrà firmare a costo zero per una nuova squadra. E come lui rabbiò Marziale, Godin, Di Maria, Giroud e Fabregas. Sarà una grande asta e scattata la corsa ai big che si liberano tra pochi mesi. Nel taglio alto piano ringhio. Fame e assist per Iguain. Prove Milan da anti Juve. Gattuso prepara Caldara e pensa a tre rifinitori. E poi euforia nerazzurra. Inter sale la febbre per la Champions. Già 60.000 biglietti per la gara contro il Tottenham. Primo giorno di vendita record. Spalletti avrà la carica dello stadio. Tutto esaurito. Scendiamo altre notizie di calcio. CR7 fa i mini tornei dopo l'allenamento. E show infinito. E poi la verità di Totti. I bianconeri sono fuori concorso per l'ex 10 della Roma da zona Champions. Nel taglio basso il suo Roland Garros 2010 si ritira. La schiavone lascia. Ho realizzato tutti i miei sogni. E poi candidato al posto di Raikkonen. La Ferrari cambia. Arriva Leclerc. Oggi l'annuncio si chiede la Gazzetta dello Sport. Andiamo invece sul Corriere. Il titolo di apertura reazione a catena. Non tutti si arrendono allo strapotere Juve. Milan, Inter e Napoli. Già attive per gennaio. Le rivali Scudetto iniziano a preparare le nuove strategie per rilanciare la sfida a Ronaldo e Allegri. Leonardo surrabbiò. Spalletti continua a sognare Modric. Lobotka per Carletto Ancelotti. Nel taglio alto gioca Totti. Il capitano torna in campo e difende la Roma. Restiamo uniti di Francesco. È una garanzia. E poi ancora nel taglio basso. Carica Italia con Balotelli per le partite della Nazionale. Bari scopri la Serie D con i calendari appunto resi noti nella giornata di ieri. E poi benedetta la MotoGP. piloti ricevuti da Papa Francesco. Andiamo su Tutto Sport. Così completiamo anche la carrellata sui quotidiani sportivi e nazionali. In apertura Chiesa e Juve-Inter. È già cominciata la volata per l'estate 2019. Bianconeri in vantaggio con la Fiorentina. Mentre Spalletti è in pressighe sull'entourage del giocatore. Qui insomma si fanno proiezioni di mercato per il prossimo anno. Nel taglio alto. Lazzari Futuro Toro. Canale aperto con la spalla per l'esterno. Si lavora per gennaio o giugno. Nella pausa di campionato. Dunque giornali che si concentrano sul mercato futuribile. Andiamo a vedere le altre notizie. Berlusconi e Gagliani per un Monza da sogno. Il ritorno nel calcio di Berlusconi potrebbe ripartire dal Monza. E poi parte la Nation League. Subito Germania-Francia. Italia anche impegnata in questa nuova sfida con Mancini CT. Ciclismo. La Vuelta di Spagna. Impresa di De Marchi. Trionfo in solitaria. E ancora Zazzev il mondiale in regalo per i 30 anni. Per quanto riguarda il volley con l'intervista esclusiva all'Azzurro. E poi ancora c'è la Schiavone che dice basta. Fu regina di Parigi nel 2010. L'annuncio è arrivato a New York. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. in cui approfondiremo i temi relativi alla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo nelle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro. In primo piano la ricerca nei laboratori del Gran Sasso. Neutrini. L'esperimento lascia l'Abruzzo. Icarus. La macchina che rileva e intercetta le particelle subatomiche. emigra a Chicago. Già firmato l'accordo con gli Stati Uniti. Nel taglio basso in Abruzzo le false griff valgono 2 milioni e mezzo di euro. Uno studio del Cresa svela i numeri dei sequestri per contraffazione in testa, giocattoli e abbigliamento. Andiamo avanti. Visite mediche. False fasce deboli penalizzate. Abruzzo il super ticket non sparisce più doccia fredda del governo gialloverde sulla regione. Il MEF boccia la proposta di Paulucci di tagliare la tassa sulla salute. Il parere tecnico. Ecco perché il ministero dovrebbe compartecipare alle spese. Poi quali famiglie in base al reddito hanno diritto all'esenzione. Troverete tutto nell'articolo. La quota statale di compartecipazione è congelata. Le proposte regionali alternative non ce la fanno a coprire interamente la spesa. L'assessore commenta. Perdiamo una occasione. Nel taglio basso tua. Ecco le disparità del biglietto unico. Il consigliere 5 stelle mercante incalza Tonelli. Favorite Chieti e Pescara. Discriminate l'Aquila e Teramo. Andiamo nella pagina Abruzzo adesso. L'Abruzzo verso le regionali. M5S al voto. Sfida sul web tra due donne. Oggi vanno in scena le regionarie bis dei 5 stelle. Marcozzi tenta di vincerle. Mentre Sabatini corre per il superposto tra i probiviri. Davasto Smargiassi sarebbe tornato in corsa dopo l'esclusione a sorpresa. Nel primo tentativo sospeso dal movimento. La partita resta apertissima. Poi ancora. L'Ogli accoglie Zingaretti all'Aquila. Il presidente della regione Lazio. Con l'Abruzzo dobbiamo marciare uniti ad ascoltarlo. C'erano Pezzopane, Pietrucci, Berardinetti, Albano Di Stefano e l'ex sindaco Cialente. Poi la Lega in Abruzzo. 70 ragazzi alla prima assemblea dei giovani della Lega. Andiamo adesso sul messaggero per vedere la pagina Abruzzo. I problemi del territorio. I soldi per le frane sono stati destinati all'acquisto dei bus. L'accusa di Febbo e Sospiri di Forza Italia. 11 comuni senza fondi per la messa in sicurezza. Il direttore della regione Rivera risponde. Useremo i finanziamenti. FESR. Andiamo a vedere insieme il servizio preparato da Paolo Renzetti. Sospiri, avete denunciato questa mattina in conferenza stampa come alcuni fondi strutturali che erano destinati al combattere il distesto idrogeologico nella nostra regione siano stati utilizzati per altri fini e altri scopi come l'acquisto di nuovi autobus tua e per questo avete scritto una lettera all'attuale presidente vicario della regione Lolli. L'aggiunta d'Alfonso, prima che terminasse questo pessimo governo regionale, prende 10 milioni di euro del distesto idrogeologico, di un fondo complessivo più ampio e li dà a tua per comprare gli autobus. Cioè non abbiamo preso i soldi per le frane, per salvare la vita della gente, i beni, le case, le infrastrutture primarie come le strade provinciali o i capannoni artigianali e li abbiamo dati a tua per comprare gli autobus. Nulla contro l'acquisto dei nuovi autobus, ma credo che i soldi per finanziarli non fossero quelli per contenere il rischio delle frane. In passato era stata fatta una gradatoria, questa gradatoria è fatta tramite criteri oggettivi di un sito internet che si chiama Rendis, che calcola la gravità della frana e il danno che procurerebbe qualora la frana effettivamente andasse in azione, ovvero i beni, quanti cittadini vengono coinvolti, quali danni si fanno le infrastrutture primarie. Avendo tolto 10 milioni di euro e non essendo riusciti a coprire questo buco per i soldi che nel frattempo ulteriori ci aveva assegnato la comunità europea per questo problema dopo la tragedia nevesisma 2016-2017, ricordiamo tra gli altri Ligopiano, oggi noi ci troviamo 11 comuni non finanziati. Alla vigilia della stagione invernale, con migliaia e migliaia di cittadini coinvolti nel pericolo che si attivino queste frane che sono lì, purtroppo per potersi generale, noi riteniamo che questa sia una vera follia. Abbiamo scritto al Presidente Lolli che ovviamente svolge le sue funzioni di ordinare amministrazione per qualche giorno, da qualche giorno, gli abbiamo scritto il 27 di agosto e oggi siamo costretti come sempre, non avendo ricevuto risposta, a denunciare il fatto. Cosa vogliamo? Noi vogliamo che si trovino questi 10 milioni di euro togliendole a opere seppure importanti ma che possano attendere rispetto alle opere che sono collegate alla salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini abruzzesi. Ancora su questa notizia dal Quotidiano Il Centro, scontro sui fondi bloccati per 26 comuni, frane il Ministero scarica sulla Regione la replica dei dirigenti dell'ambiente in una lettera inviata al Quotidiano Il Centro, cerca maldestramente di coprire i propri ritardi e poi anche Forza Italia, l'abbiamo sentito, accusa tagliati 10 milioni febbre e sospiri con i soldi acquistati bus di Tua e Rivera risponde che non è vero. E poi ancora il caso autostrada De Santis, per ora la trasparenza non c'è e poi viadotto di cerchio, l'analisi fa paura, il sindaco per strada dei parchi opera inadeguata in caso di sisma. Andiamo sulla pagina politica della città dove si getta un occhio alle candidature per le regionali abruzzese la partita della Presidenza si gioca a Roma il centrosinistra schiererà Legnini, nel centrodestra dipende tutto dall'accordo sulla Rai tra Salvini e Berlusconi Presidenza Rai alla Lega in cambio delle candidature a Forza Italia in Abruzzo e Basilicata sabato ci sarà il vertice ad Arcore Movimento 5 Stelle dopo le candidari annullate d'inizio agosto oggi si torna a votare su internet, la Marcozzi è favorita per il centrosinistra ci sarebbe già l'accordo con il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini manca solo l'ufficializzazione per il centrodestra sulla carta unito ma manca una figura capace di attrarre consenso e dello stesso livello di Legnini. Torniamo adesso sul quotidiano il centro andiamo ad aprire le pagine di Pescara il governo taglia 18 milioni la rabbia delle associazioni così uccidete le periferie confronto con il sindaco dopo la protesta a Roma martedì parola alla camera e possiamo andare a vedere anche questo servizio Bandi per le periferie, fondi per le periferie delle nostre città ieri c'è stata questa spedizione a Roma alla camera sindaco Alessandrini non è andata proprio benissimo ma voi siete determinati ad andare avanti in questa battaglia Il grido di Anci si è levato forte e unanime nel senso che sindaci di differenti espressioni geografiche di differenze idee politiche sono uniti nel chiedere con forza che questo congelamento venga scongiurato abbiamo illustrato le ragioni del perché questo è indispensabile per la vita delle comunità per la rigenerazione urbana che deve partire dalle periferie ma non a chiacchiere con i fatti e quelli sono fatti concreti che vengono inspiegabilmente congelati e abbiamo anche ricordato come noi abbiamo sottoscritto delle convenzioni in fascia tricolore con la presidenza del Consiglio dei Ministri queste convenzioni sono state registrate presso la Corte dei Conti queste convenzioni hanno determinato l'avvio di lavori di progettualità di soldi che sono stati spesi e che esistono nella contabilità pubblica per tutta questa serie di ragioni e non ultima quella di recuperare una trama di fiducia con i cittadini perché se tu poi devi andare a spiegare che è stato congelato insomma funziona poco c'è bisogno di una risposta immediata ai bisogni delle periferie e noi faremo tutto quello che è necessario come sistema, ripeto, complessivo dei comuni abruzzesi e italiani per scongiurare questo scippo istituzionale vero e proprio Chiederete un incontro con il Presidente del Consiglio Conte? Noi faremo tutto quello che è necessario a tutti i livelli istituzionali di mobilitazione e anche di, diciamo, protesta proprio qui a Pescara nel pomeriggio come è avvenuto già in tante altre città italiane incontreremo le associazioni con le quali peraltro siamo da tempo in contatto ricordo che il Bando delle Periferie è strutturato in modo tale da immaginare forme di partenariato pubblico-privato onde fare massa critica e insomma fare pressione affinché si possa tornare indietro su questo provvedimento poco felice Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara sul messaggero la lite è una questione di famiglia nel report dei carabinieri sui primi otto mesi dell'anno sorprendono i 400 interventi per le baruffe tra le persone succede tra le mura domestiche al bar, in strada e nei parcheggi tra le cause più frequenti le guerre tra vicini nel condominio al 112 arrivano in media 36 chiamate di soccorso al mese con invie di pattuglie sottratte al controllo del territorio Ancora cronaca sei mesi fa l'omicidio di Alessandro Neri il killer è nell'ombra ma spunta una pista per quanto riguarda le indagini e poi di spalla lo scandalo Mense Fratelli d'Italia no al pasto portato da casa a scuola nel taglio basso oggi i test ad architettura 100 candidati per 220 posti va raggiunto un punteggio minimo per l'ammissione la laurea triennale in design compensa il calo di iscrizioni completiamo la lettura delle pagine di Pescara sul messaggero Migrarti l'Abruzzo vince a Venezia io sono Rosa Parks premiato al Festival del Cinema poi ancora turista scomparso cresce l'angoscia le ricerche di Rodrigo Fattibene sono proseguite senza sosta notte e giorno e persino con un drone ma senza buone notizie vigili del fuoco carabinieri forestali e soccorso alpino temono che l'anziano possa essere caduto in un dirupo di spalla a Montesilvano il saluto il capitano Falce lascia il comando della compagnia di Montesilvano andiamo anzi torniamo sul quotidiano il centro per le altre notizie da Pescara ritroviamo l'apertura che abbiamo visto sul messaggero famiglia nervi tesi quante liti nel 2018 in otto mesi i carabinieri sono intervenuti per sedare 178 discussioni e poi ancora nel taglio basso agibilità di quattro scuole confronto dal prefetto Foschi ribadisce l'allarme i vigili del fuoco controlleranno gli istituti il comune non ci sono rischi proseguiamo divertimento e regole l'intervista movida gli imprenditori rispettino la normativa il comandante dei vigili del fuoco spiega i pericoli esistenti nei locali notturni andiamo avanti università con le prove di ammissione in 250 al test di design nel futuro sarò un grafico preso d'assalto il corso di laurea numero chiuso oggi tocca ad architettura nella pagina successiva fondi per 250.000 pasti grazie al banco alimentare cittadini generosi in un mese raccolti oltre 17.000 euro negli ipermercati di città Sant'Angelo Urtona e Colonnella soldi destinati alle persone indigenti nella pagina di Montesilvano corso Umberto nel degrado il comune di Pescara ci adotti e la provocazione proposta dai commercianti di Montesilvano nel cuore qui non c'è mai stato un periodo così buio nel taglio basso rifiuti ingombranti ancora in strada l'abbandono di notte in via Emilia l'assessore Cigli è una scena vergognosa nella pagina successiva trova il ladro in casa e lo mette in fuga città Sant'Angelo 32enne esce per mezz'ora e all'errientro si accorge del furto poi scopre il malvivente nascosto nella villa ancora tentano l'occupazione abusiva vengono denunciati a Montesilvano abbattono il muro di un appartamento di Via Lazio i condomini chiamano i carabinieri nel taglio basso ambiente SPA la gestione sia trasparente spoltore l'opposizione vota a favore della fusione delle società ma chiede chiarezza sul ruolo dei privati nella pagina successiva si fa il resoconto dell'estate a Francavilla record di turisti ad agosto la svolta grazie agli eventi nonostante l'erosione e la mancata bandiera blu la città si è riempita il bilancio degli operatori è positivo e poi ancora nella pagina della Val Pescara le ricerche nella valle dell'Orfento nessuna traccia del disperso nei boschi a Caramanico anche ieri proseguite per tutto il giorno le ricerche del turista 76enne di cui non si hanno notizie da lunedì e poi scuole superiori nuove aule e più iscritti per quanto riguarda popoli gli studenti dell'Alta Val Pescara confermano la fiducia dell'istituto omnicomprensivo adesso apriamo la pagina di Chieti restando sempre al quotidiano il centro città e sicurezza controlli mirati su scuole e movida questura il bilancio dei primi 30 giorni sotto la guida di Borzacchiello aumentano gli arresti 15 nel giro di un mese le reazioni i commercianti Tiberio della Confcommercio attività bersagliate dai ladri e poi pensionati con Polucci della NPCA gli anziani in preda alla paura dei furti nel taglio basso il papà di Noemi scrive a Fedez guardia grede la lettera di Sciarretta per il matrimonio dell'anno in cui si chiede aiuto per la figlia nella pagina successiva vasto vallone lebba pista ciclabile diventa discarica abusiva rifiuti di ogni tipo pneumatici e anche un materasso sul percorso naturalistico costato 600.000 euro zero manutenzione poi in centro continuano a rubare le biciclette ancora da vasto due ruote elettriche trafugate ma un ingegnere ladro visto da tanti nessuno lo ha fermato nel taglio basso tangente al cimitero c'è il ricorso vasto i difensori degli arrestati per la seconda volta si appellano al riesame prima di passare alle pagine di Teramo andiamo a vedere quelle di Chieti sul messaggero in apertura il questore Movide Scuole al via controlli straordinari dopo un mese Borzacchiello traccia il bilancio e dice di essere soddisfatto aumentati gli arresti potenzieremo i servizi per garantire più sicurezza è la promessa del questore lotta allo spaccio nei luoghi di divertimento in campo anche le pattuglie in Borghese di spalla il blitz dei 5 stelle al CUP fra code attese e vecchi PC la Marcozzi incontra i dirigenti scelta del medico da casa e poi nel taglio basso il pirata della strada va a passeggio in mutande viene denunciato provoca un max incidente con un ferito poi fugge torna a casa e gira nudo per il quartiere nella pagina successiva quella di Lanciano Vastortona voragini causate dal lassismo da diversi decenni si sapeva del grave rischio idrogeologico sul corso 33 di Lanciano Pupillo dice situazione grave gli interventi sono stati molto rapidi per la messa in sicurezza ma ora inizia la terza fase dello studio e possiamo andare a vedere proprio il servizio sulla conferenza stampa tenuta ieri sul caso Voragini a Lanciano a reggere tutto il tratto finale di Corso Trento e Trieste portici ed edifici compresi è stata la Madonna del Ponte senza la cattedrale soprattutto senza il suo basamento del Ponte Diocleziano adesso non saremmo qui a parlarne sono l'ingegnere Pasquale Di Monte e il geologo Luigi Carabba a fare il punto della situazione dopo l'intervento d'urgenza per riempire con 180 metri cubi di petrisco la voragine creatasi il 16 agosto scorso sotto l'edificio noto come Ex Modernissimo oggi il corso è sicuro via libera per i prossimi appuntamenti delle feste di settembre dal dono e concerti in piazza tuttavia dietro questa risposta a dubbi e timori dei lancianesi permangono i problemi inerenti la messa in sicurezza della struttura in cui si è creato lo sprofondamento il punto a seguito dei primi interventi d'urgenza è stato fatto in municipio dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna assieme ai due tecnici incaricati per la fase dell'emergenza una situazione complessa hanno spiegato gli esperti che si è creata nell'arco di tempo di circa un secolo a seguito di una serie di concause che hanno portato allo stravolgimento del bacino idrografico sottolinea il geologo Carabba con i vari aspetti legati nel corso dei decenni allo sviluppo urbanistico questa è l'analisi dell'ingegner Di Monte tutta la stabilità diciamo che c'è ancora del corso dei fabbricati vicino e di questo fabbricato diciamo che è stato oggetto di questa vicenda della voragine si regge ancora perché c'è un muro a valle di queste strutture di questi immobili che sta reggendo tutta la situazione appoggiandosi ai pilastri della cattedrale se i pilastri della cattedrale non ci fossero ci sarebbe la crisi di tutto il corso i portici e i fabbricati diciamo che stanno lì vicino a quello sul quale stiamo operando adesso il quale diciamo crollerebbe subito senza possibilità d'appello andiamo avanti adesso nelle pagine di Teramo sul centro c'è la sanità in primo piano il cancro a Teramo si cura con il calore Pancotti il Mazzini è uno degli otto ospedali in Italia ad avere una macchina un macchinario che sconfigge le cellule tumorali con l'ipertermia nel taglio basso ritardo nei rimborsi si tinne dei dializzati domani protesta sotto l'asra da marzo non vengono pagate le spese per andare in terapia nella pagina successiva all'università con i 400 al test di ammissione a veterinaria 100 minuti di ansia e poi gli abbracci concordi i candidati è stata una prova difficile c'è chi dice comunque vada resterò a studiare a Teramo andiamo a vedere la pagina di Teramo sul messaggero eccola qui in apertura Ciuffoletti e Trigiani nominati nuovi primari il primo ricoprirà l'incarico di ortopedia presso il Mazzini di Teramo restano in sospeso tre concorsi dopo la decisione in autotutela della ASL di spalla strade dissestate mamma con il passeggino salvata e poi adozione contestata di Bianconi il cane mascot fissato il verdetto nel taglio basso vertice per la ricostruzione scuole in tempi rapidi sindaco e giunta hanno incontrato architetti e ingegneri dopo la sentenza del Tar c'è il tavolo tecnico nella pagina successiva spunta il palo in mezzo alla strada riaperta dopo i lavori via defense a colonia spiaggia doppio senso di circolazione l'ostacolo dopo una curva stiamo aspettando i permessi dell'Enel per poterlo spostare risponde così il sindaco di Girolamo che ne conta due andiamo a vedere le altre notizie la gara pronti 10 scuola bus per la prima campanella a Giulianova e poi la querelle Gualandi chiede i danni a Comune ed Ateneo in Val Vibrata tombini più rumorosi del treno cresce la protesta sul lungomare mentre a Santomero visita vietata la scuola elementare andiamo a vedere anche la città per le altre notizie dal Terramano determinante per il futuro di Via Milli i consiglieri PD e le formazioni civiche non vogliono saperne di supportare candidature calate dal PD serve l'accordo la candidatura di Giuseppe D'Alonso non sarebbe affatto scontata per la provincia di Teramo andiamo avanti un tavolo con gli ordini tecnici avremmo già visto in precedenza incontro in municipio con ingegneri e architetti temi in ballo l'amministrazione cerca un confronto sulle scuole le barriere architettoniche il nuovo ospedale e il terremoto ancora due anni per una copertura senza un padre teatro romano anche la soprintendenza disconosce di aver dato indicazioni allo studio Bellomo lavori corso vecchio soprintendenza e comune puntano a evitare interferenze con i resti dell'antica Interamnia Porta Madonna oltre alle giostre della festa il 2 giugno la soprintendenza ha puntato anche l'autolavaggio andiamo avanti impresa CNA sostiene i cambiamenti presentata la terza edizione del premio nazionale dedicato alle start up innovative settembre caldo per gli eventi in centro weekend pieni di concerti con Federica e Serena per i street sportissimamente e follemente andiamo in provincia gli studenti di isola nella ex sede dell'eco l'amministrazione punta il dito contro la burocrazia per i ritardi del polo scolastico e trova una soluzione ancora nasconde la coca nella ruota di scorta l'autostrada utilizzata come canale per lo spaccio di droga in vibrata la differenziata cresce siamo a Giulianova ma la Tari non cala città i primi posti in regione ma non basta per abbassare le tasse nella pagina successiva il PD chiede un cambio di passo al sindaco decoro frazioni manutenzioni disabili e digitalizzazione tra le priorità elencate da cinque consiglieri l'invito sono temi che non possono più essere rimandati per onorare le preferenze raccolte dai cittadini rosetani e poi il caso a Silvi un solo impianto per due scuole calcio Silvi Calcio e SD Castrum non si accordano l'amministrazione comunale prova la mediazione adesso andiamo alle pagine dell'Aquila sul centro in apertura liceo Cotugno scuola spezzatino gli alunni pronti a scendere in piazza in rivolta agli studenti del liceo cittadino ci hanno dimenticato dicono disagi anche all'Ipsiar palestra senza riscaldamento nel taglio basso Sant'Angelo Conzelli ma scaricano di Stefano il fondatore di azione politica in città per accogliere il consigliere sabato non saremo all'aurum questo l'annuncio nella pagina successiva Avezzano indagine shock studentessa di 16 anni stuprata nel vicolo la ragazzina racconta l'orrore e le minacce in cambio del silenzio indagati due giovani marocchini un terzo è ricercato andiamo nel taglio basso ora Gran Sasso imbrattato a Monte Camicia l'Aquila i vandali hanno impresso sulla roccia date ora del passaggio sdegno tra gli appassionati andiamo a vedere anche le pagine aquilane del messaggero anche qui in apertura Cotugno diviso in cinque plessi scoppia la rabbia degli studenti la decisione arrivata dall'amministrazione provinciale non ci sono state facilitazioni Palumbo capogruppo PD in consiglio dice debacle totale della politica post-sisma di spalla PD Zingaretti all'Aquila rilancia il modello Lazio e poi Zelli ingaggia Sant'Angelo e benedice Di Stefano e la notizia di politica nel taglio basso guerra tra associazioni sportive nessun colpevole il GIP archivi e il contenzioso tra i club non riscontrando alcuna ipotesi di reato nella pagina successiva grandi eventi il modello che funziona un successo il piano d'emergenza per la gestione dei rischi quasi mille persone impiegate più di 300 forze dell'ordine l'assessore imprudente corteo e concerti senza disagi spesa attorno ai 60 mila euro tra rimborsi e acquisto materiali andiamo a vedere la pagina successiva ragazza di 16 anni violentata dal branco siamo ad Avezzano attirata in un veicolo buio stuprata da un marocchino altri due stranieri controllavano che non arrivasse nessuno le minacce dopo gli abusi zitta o ti facciamo del male lei ha raccontato tutto ai genitori è stata presentata chiaramente la denuncia di spalla cerchio tedeschi su A24 e A25 sicurezza e bassi pedaggi e poi ancora nel taglio basso vertice sul cam confronto ad alta voce tensione durante gli interventi dell'ex vice sindaco di Avezzano Nando Boccia e di Cristian Carpineta restiamo sul messaggero andiamo ad aprire le pagine dell'Abruzzo Sport si parte dal Pescara Pescara vincente con Campagnaro l'argentino a 38 anni prezioso anche per Pillon sono 45 le partite in biancazzurro con 17 vittorie il Toro si conferma sempre fondamentale il meglio con Oddo nella cavalcata verso la Serie A e poi ancora il Futsal a quest'apone Perez sorride buon test con l'Automotive poi nel taglio basso Tarquini quarto successo mondiale il pilota abruzzese conquista la Race of Slovacchia a bordo della Hyundai nel World Touring nella pagina successiva un poker di gare sprint serie D ecco i calendari delle squadre abruzzesi nel girone F7 i turni infrasettimanali Cesena per l'Avezzano poi Francavilla Pineto Vastese Ammatelica Real contro l'Agnonese San Nicolò Notaresco contro il Castelfidardo la prima giornata Sharks avanti tutta ok il test con il Chieti per quanto riguarda il basket Sherrod Deperson migliori marcatori con 19 punti ciascuno poi Pieric con 16 e Achele con 12 e poi sul messaggero lo spazio dedicato al calcio amatoriale della Wisp andiamo nelle pagine di sport del centro partiamo dalla serie D con la guida al campionato che sarà il calendario del girone F con il via il calcio d'inizio il 16 di settembre l'Abruzzo sfida il Cesena per un posto in C l'Avezzano terrà a battesimo la corazzata romagnola subito derby Francavilla Pineto esordio ammatelica per la vastese poi il neopromosso Real Giulianova debuta ad Agnone contro i molisani allenati da Mecco Monaco il San Nicolò notaresco sarà di scena a Castelfidardo e poi il calendario con le reazioni dei protagonisti Paris esulta volevo il Cesena al Dei Marsi Bolami dice è un esordio duro il presidente dell'Avezzano si auspica e dice ci sarà un grande pubblico va stese a matelica il patron felice di sfidare Micciola Rachini allenatore del Francavilla con il Pineto sarà una gara tosta Real Giulianova ad Agnone Bartolini commenta sarà una battaglia di Giovanni del San Nicolò notaresco ancora troppi sette turni infrasettimanali adesso andiamo in serie B per quanto riguarda il Pescara il parere degli ex Biancazzurri di Cara Gelsi e Pagano promuovono il Pescara giudizi positivi dopo le prime due gare di campionato della squadra di Pillon un bel mix di calciatori giovani ed esperti il Delfino può centrare i playoff nel taglio basso la primavera debutto di fuoco contro la Lazio il 15 di settembre prima di campionato per l'11 di Zauri che sabato sfiderà i Biancocelesti in amichevole nella pagina successiva andiamo in serie C con il Teramo salvezza nel Milino ma questo Teramo può andare lontano tesserato anche Vitale il DG Capaldi traccia il bilancio soddisfatti del mercato ci sono i presupposti per fare bene e poi ancora niente sorprese l'Aquila riparte dalla prima il provvedimento del commissario Figgici Fabricini conferma la categoria rosso-blu nel girone A nel taglio basso ancora calcio dei dilettanti eccellenza Micala Cupello e Gelsi torna a San Buceto promozione colonnello junior al Villa 2015 poi ancora calcio a 5 campioni d'Italia questa pone travolgente nel primo test nella pagina successiva l'atletica leggera gli assoluti a Pescara da Sabatini ha mantenuto ecco le stelle d'Abruzzo in pista domani al Via i campionati italiani allo stadio Adriatico Cornacchia sono 29 gli atleti abruzzesi in gara affari puntati sulla mezzofondista Teramana nei lanci la beneduce va a caccia di una medaglia andiamo a vedere le altre notizie di spalla il volley con l'amichevole impavida la KO con la lube ma l'anci può sorridere nel taglio basso il basket Giulianova di misura Teramo KO basket di B Giuliesi superano 66 a 64 l'Adriatica Press buon test anche per l'amatori e per il basket in carrozzina Amicacci De Maggi salute passa alla Briantea Cantù la pagina di sport anche sulla città e completiamo la nostra rassegna stampa Teramo Basket parte la campagna abbonamenti per quanto riguarda la formazione Teramana presentata ieri in sede lo slogan sostieni la passione rimane il nodo del Palasca nel taglio basso i Roseto Sharks convincenti nel terzo scrimmage contro Chieti al Palamagetti la prima vittoria per la squadra di coach d'Arcangeli 87 a 66 davanti ad una buonissima cornice di pubblico è tutto per quanto riguarda mattino 6 io vi ringrazio per averci seguito l'appuntamento per domani mattina alle ore 8 la nostra informazione con il TG6 torna alle 14 è tutto davvero buona giornata per averci seguito l'appuntamento l'appuntamento per averci seguito l'appuntamento l'appuntamento per averci seguito l'appuntamento